Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica quando sull'Italia un minimo di bassa pressione arrecherà ancora instabilità nella prima parte del giorno sul centro Italia, ovviamente anche il sud, qui si attarderanno i fenomeni fino a sera, miglioramento poi nella seconda parte del giorno al centro nord con schiarite anche ampie, ma una nuova perturbazione martedì raggiungerà tutta l'Italia, un ciclone mediterraneo, martedì forte maltempo dappertutto. Ecco la nuvolosità con ampia apertura del cielo in arrivo al centro nord, mentre nuvolosità irregolare ancora al sud e qualche precipitazione. Prossima immagine ci conferma dei fenomeni sulle regioni meridionali, inizialmente al mattino anche sul medio adriatico, poi migliora, temporali localmente anche intensi all'estremo sud con clima ventoso. Al nord invece una bella giornata, massime attorno ai 13 gradi, minime di notte invernali. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.